Giovinco, finta, occhio a sinistro, eccolo che arriva, palla sul fondo, palla fuori, Pasquale al volo, va a Pirlo, cerca la porta e non la trova di poco con Viviano che si era proteso in tuffo. Giaic, va verso la porta, c'è una traversa clamorosa, forse Jovedic è riuscito a toccare il pallone. Taglio di Giaic, in posizione regolare, Giaic verso la porta, Molucci lo recupera, Giaic, clamoroso amore, se lo dimora Giaic. Pizarro, Roncaglia, prova ad andare via Roncaglia, occhio anche il tiro, la prova di Roncaglia, Facundo Roncaglia vicino al gol dell'1-0. Pasquale, Pizarro, Quadrado, ci prova lui, non di molto sul fondo. Iovedic, Matti Fernandes è accettato di Quadrado, Matti Fernandes tiene palla, eccolo Quadrado, ancora Matti Fernandes in mezzo, si cerca anche Iovedic, poi arriva Romulo, ancora Romulo. Quadrado, il cross per Iovedic, non arriva, Pasquale, ha cercato il colasso di testa.